Si sfoga sul suo profilo Facebook il dottor Vincenzo Carabetta, leader del gruppo di opposizione Scelgo Locri e dirigente medico dell'ospedale Locrese, posto un articolo di dieci anni fa dove allora era presidente del Consiglio Comunale di Locri nell'amministrazione Francesco Macri. Tutto previsto, scrive, a causa della cecità dei consiglieri regionali di allora, che furono complici dell'accorpamento dell'azienda sanitaria di Locri con quella di Reggio Calabrio, con lo scellerato emendamento ad amo che fallo, firmato nella notte. L'ospedale di Locri, scrive ancora Carabetta, dieci anni fa garantiva assistenza qualificata e anche se con difficoltà era un punto di riferimento sostanziale per la sanità del territorio. Oggi parla di dati drammatici che riflettono la difficoltà gestionale di un'azienda territoriale della provincia di Reggio, azienda enorme che si vede investita nella gestione di una sanità territoriale con quasi 50.000 utenti, assieme alla gestione dei due ospedali Spock di Locri e Polistena, oltre a quelli di merito e gioia. Per Carabetta la soluzione sarebbe quella di portare avanti proposte concrete, quali quella di promuovere e favorire l'attuazione di un'azienda autonoma che coinvolga i territori della Locri e della Piana, dove ricadono i due ospedali Spock. È auspicabile, conclude Carabetta, che venga quindi promossa e portata avanti dalle forze politiche e sociali del territorio questa proposta. Occorre trovare soluzioni su come incidere sulle future programmazioni sanitarie regionali, altrimenti proseguiamo per un altro decennio a rivendicare le richieste di una giusta sanità.